Ma anche qui dobbiamo trovare le competenze migliori e un quadro di alleanza strana, per cui credo che alla fine dovremo farci carico tutti di far partire le commissioni perché si possono produrre quegli effetti positivi che il Paese sta aspettando. Quindi una normale dialettica, una normale discussione, ma mi auguro che già stasera i nodi possano essere sciolti e domani possono essere insediati.